salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di sicurezza e soprattutto di sicurezza domestica diciamo un lato della nostra vita che è molto importante per farci stare tranquilli e sereni all'interno delle nostre abitazioni sempre che comunque essere sicuri in casa soprattutto di notte è una cosa importante per farsi stare sereni e rilassati e in questa cosa ci viene incontro la tecnologia e ci viene incontro con questi prodotti che adesso costano poco ma funzionano davvero bene il prodotto che vi parlo oggi è questa telecamera di sicurezza della m vision e il modello è l'hm d2 questo prodotto che costa su amazon vi lascio link in descrizione circa 90 euro ma con il coupon sconto che vi lascio sempre in descrizione l'andrete a pagare circa 60 euro e se la dovete acquistare il coupon sconto scade il 29 marzo quindi non aspettate e approfittate perché 30 euro di sconto sono veramente tanti per un prodotto che vi straconsiglio perché funziona davvero davvero bene con poca spesa state molto molto più tranquilli in casa perché è un prodotto che vi permette di fare tante cose in più in maniera super semplice l'applicazione in italiano a rilevazione dei movimenti registrazione sulla sd comunicazione con lo smartphone in tempo reale sia in casa sotto la rete domestica che quando siamo sotto la rete 4g del nostro operatore mobile cioè veramente super completa all'audio che sia in entrata che in uscita quindi possiamo sia far uscire l'audio dalla videocamera quindi se parliamo nel telefono l'audio uscirà dalla videocamera che viceversa cioè sentire l'audio che entra dalla videocamera e lo sentiamo nel nostro smartphone quindi veramente un prodotto super completo ovviamente anche la visione notturna anche nel buio pesto poi vi faccio vedere cioè nel buio più assoluto riesce a tranquillamente a darci una definizione dell'immagine niente niente male e anche la qualità di giorno è un 1080p quindi un full hd davvero davvero super per questo prezzo quindi adesso veloce unboxing e poi vi faccio dell'installazione che è super semplice in un attimo questa telecamera è operativa e ovviamente essendo una telecamera di sicurezza è installabile sia all'interno che all'esterno perché è ip65 a livello di imprimabilità quindi può stare tranquillamente all'esterno senza nessunissimo problema o possiamo metterla all'interno se ne può mettere fino a quattro associate alla stessa applicazione quindi possiamo veramente mettere in sicurezza tutta la nostra abitazione adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno andiamo aprire la confezione allora qua troviamo subito i manuali questo per l'avvio rapido cioè in un attimo veramente si è subito operativi anzi poi vi faccio vedere farlo quindi non vi serve neanche il manuale se guardate questa guida poi qua troviamo tutti i vari supporti garanzie e via dicendo e qua troviamo subito la nostra videocamera piccola compatta guardate in mano come sta tranquillamente veramente piccola qua dietro abbiamo il supporto per il magnete e qua sotto per il supporto a vite poi vi spiego le due differenze perché all'interno troviamo tutti e due i supporti all'interno della confezione intendo qua dietro abbiamo uno sportellino in gomma che è sigillato perché essendo ip65 sportellino in gomma sigilla tutta questa parte dove abbiamo l'interruttore per accenderla e spegnerla lo slot per la micro sd e la presa micro usb per la ricarica andiamo a rimettere il suo sportellino spinto bene dentro perché deve sigillare se la mettiamo all'esterno qua abbiamo il buco del microfono c'è veramente un prodotto super completo adesso vi faccio vedere cosa c'è ancora nella confezione allora abbiamo un cavo di ricarica micro usb usb poi abbiamo i fish per andare a installare questo supporto questo è uno dei due supporti e quello magnetico come vi dicevo prima vedete qua dietro c'è questo diciamo un specie di semisfera e il magnete si aggancia perfettamente perfettamente poi è forte da questo magnete non si stacca più questo diciamo che è per uso interno qua dietro possiamo andare a mettere un fisher di quelli che abbiamo in dotazione o andare a attaccare l'adesivo 3m qua dietro e l'adesivo 3m sapete che quando lo attaccate non lo staccate più perché veramente sono super forti i biadesivi 3m in base a dove dobbiamo andare attaccare il supporto possiamo decidere se usare il biadesivo o il fisher e usare questo supporto magnetico e questo lo consiglio per uso interno mentre per uso esterno adesso la scatoletta è vuota ma lo trovate qua dentro perché è vuota perché io l'ho già installato fuori poi vi faccio vedere ovviamente quando andiamo in esterno trovate degli altri fisher e supporto in metallo che va fissato qua sotto con la vite quindi uno snodo che va fissierato nel muro e qua sotto la vite poi dopo ve lo faccio vedere quando andiamo in esterno quindi questo è tutto quello che troviamo nella confezione adesso invece vi faccio vedere come andare ad associare la telecamera al nostro smartphone allora per prima cosa dobbiamo tenere premuto il tastino qua dietro e aspettare che il led rosso davanti inizi a lampeggiare ecco vedete che c'è il led qua rosso davanti a questo punto la telecamera è operativa vedete che lampeggia per essere installata quindi andremo a quindi andremo ad aprire l'applicazione che dovete scaricare che sia per ios che per android si chiama in life la installate a questo punto l'andate ad aprire di registrato ovviamente io qua sono già registrato dovete solo mettere la vostra email e un username a questo punto facciamo più qua ci chiede se vogliamo installare un ip camera un campanello in questo caso un ip camera c'è anche una voce che ci guida adesso voi non la sentite perché c'è il volume basso ma c'è una voce in italiano che ci guida perché tutta l'applicazione è anche in italiano e questa è una cosa secondo me fondamentale che è sempre utile avere la lingua italiana nei nostri dispositivi quindi facciamo prossimo a questo punto facciamo ancora prossimo avanti ci chiede di associare alla nostra rete wifi quindi vedete ovviamente io avevo già inserito in precedenza i dati comunque solo la rete wifi ve la trova da solo dovete solo mettere la password nel caso l'abbiate a questo punto facciamo prossimo cosa succede che adesso sul nostro smartphone apparirà un QR code che dovremmo fare inquadrare alla telecamera quindi non ci resta che fare prossimo vedete che il QR code è questo basterà mettere la telecamera davanti avete sentito un suono quando viene messo questo suono la telecamera è abbinata alla nostra rete quindi facciamo seguente adesso associa e configura il tutto aspettiamo che arrivi al cento per cento di configurazione ok il dispositivo è associato avete visto ci ha messo veramente poco in un secondo si è associato qua possiamo andare a cambiare il nome al dispositivo che quello di default è solo una serie di numeri quindi andrò a chiamarlo camera terrazzo così so che nel caso andrò a mettere più di una saprò quale mi sta avvisando quindi faccio ok fatto e siamo già operativi vedete che la telecamera mi sta inquadrando qua possiamo selezionare se vogliamo una qualità aspettate che prima vado a disattivare sia l'audio perché sono si sente la mia voce anche nel telefono perché lei dal suo microfono diciamo ci trasmette l'audio nel telefono e vado a disattivare la rilevazione di movimento perché se no continua a rilevarmi perché sono qua davanti e continua a muovermi allora questa è l'applicazione vedete semplice in italiano super facile allora qua ci dà il segnale wifi cioè quanto segnale wifi sta ricevendo la videocamera poi qua abbiamo screenshot e se io vado a cliccare qua scatto un istantanea che viene salvata nel telefono poi interfono perché questa videocamera se tengo premuto parlando nel telefono esce l'audio dal videocamera ma poi questo lo vedremo in esterno lo faccio vedere anche qua prova 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 videocamera ecco questo è diciamo l'effetto se non so se con i vari microfoni che ho quasi se capito se si è sentito un po male record se lo clicco va a registrare quello che sta inquadrando direttamente il nostro smartphone e rilevazione di movimento se lo vado attivare lei appena rileva il movimento poi lo proveremo dopo di un corpo umano perché comunque lei diciamo fa un calcolo tra dimensioni e temperatura quindi se passa un uccellino un cane un gatto lei non attiva sensori di movimento ma se passa un corpo umano sì a quel punto cosa succede che va a far partire anche la registrazione del video perché qua se noi mettiamo una micro sd oltre arrivarci la notifica che è stato rilevato un movimento che uscirà qua nel cellulare come quelli che sono usciti prima poi lo vedremo dopo nella prova in esterno nella sd registrerà i secondi di video che andremo ad impostare quindi si attiverà una registrazione che durerà in base a questo vedete qua è l'impostazione se io vado adesso in scheda sd posso decidere quanti secondi di registrazione lei debba fare dal momento che rileva un movimento quindi 20 secondi 40 secondi un minuto quindi torniamo indietro qua vabbè abbiamo le funzioni base impostazione dell'allarme vedete se rilevazione di movimento in questo momento è spento poi ricevere notifiche di messaggio quindi se vogliamo che la notifica ci appaia proprio come avete visto uscire ed è la cosa più utile ovviamente essendo una camera di sicurezza da qua poi faremo anche l'aggiornamento perché ci uscirà se c'è un aggiornamento firmware e qua abbiamo cloud storage vedete questo è un servizio che non è gratuito è gratuito per sette giorni praticamente è un cloud cioè una nuvoletta per intenderci dove vengono registrati tutti i nostri video di sorveglianza quindi non avremo problemi di spazio di dover andare a cancellare cose vecchie che abbiamo potremo registrare tutto quello che vogliamo ma non è gratuito è gratuito solo per sette giorni questo servizio è cloud quindi dopo uno decide cosa fare o meno qua possiamo scegliere la qualità se sd o hd ovviamente io preferisco hd però dipende anche dalla rete internet che abbiamo perché ovviamente un hd ha più dati da trasportare è un sd invece meno dati qua abbiamo la quantità di batteria ancora disponibile perché questa videocamera ha una batteria da 6.000 mini ampere agli ioni di litio che dura quattro mesi dopo quattro mesi dovremmo ricaricarla a meno che ci installiamo un pannellino solare che va messo da parte prova anche quello fissato al muro vi dicendo che la mantiene costantemente ricaricati preferisco non metterlo anche perché è un altro diciamo accessorio che va fissato nel muro preferisco ogni quattro mesi staccarla andare a collegare il mio cavetto usb ricaricarle per altri quattro mesi sono a posto poi cos'è che voglio farvi vedere ancora qua abbiamo la storia cioè quindi tutto quello che è diciamo nella storia della nostra videocamera e basta questo è vedete l'applicazione molto semplice qua attiviamo disattiviamo l'audio cioè l'audio in entrata cioè se io parlo nella videocamera l'audio esce nel telefono perché questa videocamera ha questo audio diciamo bidirezionale nel senso che sia in entrata che in uscita quindi vedete che l'applicazione è super semplice in un attimo siete operativi e siete subito online ma adesso una cosa che vi voglio far vedere è la qualità video di questa videocamera al buio aspettate che spengo l'audio qua se no ma una cosa che voglio farvi vedere adesso è la qualità video di questa videocamera al buio pesto ma parlo proprio di buio quindi la vado a mettere qua davanti dove mi sta inquadrando la canon ok vado a spegnere tutte le luci adesso c'è veramente buio pesto anzi giro ecco qua cioè la guardate la canon praticamente non riesce inquadrare niente ci sono solo un po di led accesi dei vari caricatori ma è buio assoluto guardate come invece la telecamera a infrarossi mi sta riprendendo tranquillamente eppure in maniera secondo me più che ottima quindi ragazzi adesso riaccendo un attimo le luci quindi adesso ragazzi non ci resta che andare a testarla all'esterno ok ragazzi la videocamera l'ho installata qua sul mio terrazzo perché voglio avere in sicurezza appunto quest'area e lei col suo grand'angolo riesce a prendermelo praticamente tutto quindi adesso basterà accedere nell'applicazione lecce il tempo che lei il carica quello che sta inquadrando ed ecco ecco fatto cioè vedete che lei già ci sta inquadrando anzi giro anche il telefono che vi faccio vedere questa è la qualità hd e direi che è una qualità più che buona a questo punto volevo farvi vedere appunto il rilevamento di movimento se io adesso mi sposto ok mi tolgo dall'inquadratura vado ad attivare rilevazione di movimento quando andrò a passare sulla videocamera o meglio davanti alla videocamera e lei rileva una figura ecco vedete che subito alert message perché la videocamera ha rilevato un corpo umano e quindi ci avvisa che c'è un movimento davanti a lei adesso lo vado a disattivare la stessa cosa funziona anche se non siamo in casa ovviamente se io adesso vi faccio vedere vado a disattivare il wifi e metto il 4g vedete che in alto il 4g adesso lei ricarica la videocamera perché comunque deve ricaricare la comunicazione con la videocamera perché ho disattivato il wifi e sono passato al 4g vedete che lei continua a inquadrarmi quindi se noi siamo fuori casa quello che vedrete è questo perché è l'inquadratura con la rete mobile la stessa cosa succede con la rivelazione di movimento se adesso io mi tolgo dall'inquadratura vado a attivare rivelazione di movimento quando andrò a passare davanti alla videocamera vedete alert message anche in modalità diciamo rete mobile ci arriva subito il messaggio adesso lo vado a disattivare e ogni volta che viene attivata appunto questo avviso lei registra anche sulla sd i secondi che abbiamo impostato nell'applicazione poi un'altra funzione che volevo farvi vedere la funzione interfono se io tengo premuto qua e parlo sentite che l'audio esce anche dalla videocamera perché comunque questa videocamera ci permette di fare uscire l'audio da lei e lei di farci sentire l'audio all'interno del nostro smartphone questa funzione diventa molto utile se la mettiamo tipo in una cameretta in cui abbiamo un bambino piccolo e vogliamo tenerlo monitorato e magari il bambino piange o meno ci chiama possiamo rispondergli anche da questa videocamera quindi una funzione in più che ha poi abbiamo la funzione come vi dicevo record che ci permette di registrare vedete esce la scritta re che lei sta registrando ma sta registrando nel nostro smartphone in questo caso non registra nella sd ma registra nel nostro smartphone direttamente la stessa cosa è lo screenshot se io vado a scrisciare a la stessa cosa è lo screenshot se io clicco su screenshot lei fa la foto e la registra nella nostra galleria mentre quando parte diciamo l'avviso di rilevazione di movimento registra nella micro sd i secondi che abbiamo impostato questa è la telecamera di sicurezza che vi straconsiglio perché funziona davvero bene ed è super economica link di amazon in descrizione con coupon sconto che ve la fa a pagare intorno ai 60 euro perché il coupon sconto è di circa 30 euro al suo prezzo che è normalmente di 90 euro e vi assicuro che li vale assolutamente tutti quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questa recensione questo test di questa videocamera di sovveglianza che vi super consiglio vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscriviti al canale telegram offerte se lo avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscrivete a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un torno alla novità ciao 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 ciao